E questo nuovo Detective Pikachu è un enorme campanello d'allarme per tutti gli spin-off della serie Pokémon. Non so se avete fatto caso a quanto si parli sempre della qualità scadente dei giochi Pokémon della serie principale e quanto si parli pochissimo invece di come gli spin-off Pokémon siano in caduta libera. Ho giocato per un po' al nuovo Detective Pikachu in ritorno e questo mi ha spinto a fare un discorso generale sulla situazione e come potete vedere, nonostante ci mandino gadget come questa spilla o il caffè, non siamo obbligati a parlarne bene in nessun modo, anzi, quando le cose sono fatte male, sono fatte male. E io credo sia importantissimo in questi casi essere quanto più chiari, trasparenti e aperti possibile. Dunque iniziamo a parlarne, voi però mi raccomando, se volete aiutarci a crescere mettete adesso un like e iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e soprattutto dopo commentate qui sotto perché sono curioso di sapere la vostra, che vi leggo tutti. Ciò che ho sempre adorato degli spin-off Pokémon, che è anche il motivo per cui sono creati e credo che la stessa cosa valga per voi, è che ci permettono di vivere l'essenza del mondo Pokémon sotto nuovi punti di vista diversi dai giochi sviluppati da Game Freak, con nuove prospettive e a volte anche storie molto più avvincenti. Mi viene subito in mente la saga di Pokémon Mystery Dungeon o Pokémon Ranger, dalle quali ho personalmente cominciato sui vecchi Game Boy e Nintendo DS. Però poi sono arrivati i giochi mobile e chi ci segue da più tempo forse potrebbe ricordare un vecchio mio video fatto nel 2019 in cui mi lamentavo del fatto che The Pokémon Company stesse privilegiando appunto i videogiochi per smartphone e del fatto che uscissero sempre meno giochi spin-off in favore di Pokémon GO, Masters, Shuffle ai tempi, Duel e così via, con diverse serie tagliate fuori come ad esempio il carissimo Poké Park che nella sua idea era molto interessante, ma anche la stessa saga di Pokémon Ranger. Ora ad onor del vero su Nintendo Switch c'è stata una piccola scintilla, infatti abbiamo avuto New Pokémon Snap, il nuovo capitolo di una vecchissima saga degli spin-off Pokémon e anche il remake di Pokémon Mystery Dungeon, Squadra Rossa e Squadra Blu. E ora ovviamente anche il nuovo Detective Pikachu ritorno, non menziono ovviamente Poké Entornament DX perché è un porting con poche aggiunte. I risultati però purtroppo per noi sono più che deludenti. Dei giochi che ho menzionato reputo New Pokémon Snap l'unico vero nuovo titolo spin-off degno di nota, nonostante manchi di innovazioni particolari rispetto al primo capitolo. Il remake di Mystery Dungeon è un semplice remake con una veste grafica rinnovata che andava ad aggiungere poche cose, come ad esempio la Mega Evoluzione e poco altro. E questo nuovo Detective Pikachu è un enorme campanello d'allarme per tutti gli spin-off della serie Pokémon, sotto diversi punti di vista. Vi rinfresco la memoria se non lo ricordate perché questo videogioco è stato annunciato ben 4 anni fa, nel maggio del 2019 durante una conferenza Pokémon, durante la quale venne annunciato non soltanto il nuovo capitolo della saga, ma anche un remake del primo gioco per 3DS e altri annunci come ad esempio Pokémon Home. Da lì sono passati ben 4 anni di sviluppo per l'azienda Creature Seek che se ne è appunto occupata. Un periodo abbastanza importante per lo sviluppo di un videogioco e nel mentre abbiamo avuto anche l'incredibile successo del film live-action. E mi dispiace dirlo, credetemi con tutto il cuore, ma questo videogioco è l'esempio lampante di come avere più tempo per sviluppare un titolo, non porti automaticamente a un prodotto di qualità maggiore se mancano purtroppo basi fondamentali. Ma quindi, Viglio, quali sono i problemi di questo videogioco? Cominciamo a toglierci il sassolone dalla scarpa, e questo è il problema che ormai affligge tutti i nuovi videogiochi Pokémon, perché graficamente è indecente. Per farvi capire, roba che Scarlatto e Violetto, sia a livello visivo che a livello di giocato veramente nel pratico, sembra roba next gen. Mancanza di luci, assenza di ombre qua e là, movimenti legnosissimi, addirittura situazioni in cui il framerate dei personaggi un po' più in lontananza non è stabile. Cose che non trovano in alcun modo giustificazione né per il tempo di sviluppo né per il tipo di gameplay di questo videogioco, dove per la stragrande maggioranza dei casi dobbiamo semplicemente spostarci con il nostro personaggio in ambienti molto chiusi, a telecamera fissa e a scorrimento laterale, semplicemente muovendo la levetta e premendo il tasto A. Insomma, nulla di troppo complesso e nulla che Nintendo Switch non possa reggere in modo egregio. E a questo aggiungiamoci il fatto che, secondo una stima, il gioco ha una durata di circa 10-12 ore, che per quanto mi riguarda andrebbero anche più che bene. Ormai ho un'età in cui avere giochi che durano 100 ore per me è eccessivo, quindi, capitemi. Ma andrebbe ancora meglio se fossero 10-12 orette di alta qualità o comunque di qualità che varrebbe la pena vivere, ma non sembra essere questo il caso. E tra l'altro, questo videogioco su Metacritic, ovvero il sito che raccoglie le recensioni della stampa videoludica, ha il punteggio di 68 su ben 51 recensioni analizzate. È poco, è veramente molto poco. E se ha un problema grafico enorme che è evidente a tutti e che soltanto i fanboy più accaniti del brand hanno difeso, ci aggiungiamo anche il fatto che i casi da risolvere fondamentalmente sono semplici perché il gioco è quello che è e è ovvio che questo titolo non abbia fatto grosse vendite e che sia indirizzato principalmente ai veri fan Pokémon che vogliono appunto immedesimarsi in questo mondo. E vi assicuro che nonostante questo potreste comunque avere difficoltà ad andare avanti nel gioco perché anche io sono fan, ma ad un certo punto per la retratezza tecnica e per la semplicità non sono riuscito a proseguire, nonostante devo dire la storia comunque in qualche modo si faccia seguire. Purtroppo la generazione dei giochi Pokémon su Nintendo Switch, non solo di Game Freak a quanto pare, non è riuscita in alcun modo a lasciare un segno né con i giochi della serie principale perché sono colpiti da alti ma da tanti bassi, né tanto meno con gli spin-off. E l'augurio è che con l'arrivo della nuova generazione Nintendo Switch 2 le cose possano cambiare marcia perché ritrovarci con dei prodotti simili su una console molto più potente di quella che abbiamo adesso porterebbe a una situazione ancora più catastrofica. Ora sono curioso di leggere i vostri commenti qui sotto. Ho esagerato? Siete d'accordo con me? Volete farmi notare qualcos'altro? Scrivetemi tutto ciò che volete. Il vostro video vi ringrazia per aver guardato questo video e vi dà appuntamento al prossimo. Ciao ragazzi!